Google è pronta ad intensificare la propria presenza nel Regno Unito come testimonia all'annuncio dell'apertura di un nuovo quartier generale nella città di Londra. Nelle ultime ore, infatti, il CEO di Big G ha incontrato il sindaco di Londra Sadiq Khan mostrando il piano della propria società che vede Londra come luogo cruciale per lo sviluppo dell'azienda con oltre 3.000 nuovi posti di lavoro che saranno creati entro i prossimi 4 anni per un investimento complessivo che si aggira intorno al miliardo di sterline. Per realizzare questo progetto, Google è intenzionata ad espandere il vasto campus situato alle spalle della stazione ferroviaria di Kings Cross portando quindi la forza lavoro da circa 4.000 a 7.000 dipendenti in una zona ampia oltre 60.000 metri quadri. All'emittente BBC, lo stesso San Marticciai ha dichiarato che il Regno Unito è stato un mercato enorme per Google e vedono quindi grandi opportunità nella capitale inglese. Questo è ovviamente un grande impegno da parte dell'azienda statunitense. Con alcuni dei migliori talenti al mondo che si trovano attualmente nel Regno Unito sono fiduciosi di costruire grandi prodotti che li contraddistingueranno nel lungo termine. L'innovazione, il talento e l'avanguardia tecnologica che c'è a disposizione già a Londra, dicono gli esperti, ti consentirà di rendere unica questa città in cui stanno investendo. Quindi se stai cercando un lavoro nel campo dell'informatica, ti consiglio di andare a Londra in questo periodo. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi essere inoltre aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube. Oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare il tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!